Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, asfalta Fedez, lui è solo un. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Durante la frenetica Fashion Week di Milano, le luci sono puntate sui volti noti della tv e del web, ma è Valentina Ferragni a rubare l'attenzione di tutti. Interrogata da un reporter durante la sfilata di Toads, la giovane è stata bruscamente messa sotto i riflettori riguardo alla situazione tra Chiara e Fedez. Ecco cosa ha svelato la sorella dell'icona italiana delle influencer. Valentina ha sempre dimostrato un legame saldo con Chiara, anche nei momenti più turbolenti. Il presunto divorzio è diventato l'argomento principe del gossip, soprattutto dopo l'intervista rilasciata dalla stessa Chiara al Corriere della Sera una settimana prima della notizia dell'allontanamento di Fedez. Durante quell'intervista, Chiara ha toccato argomenti delicati come la famiglia e i figli, lasciando intendere le difficoltà che stava affrontando. Nel frattempo, la stessa Chiara ha scelto di rimanere indisparte dalle sfilate della Milano Fashion Week, mantenendo un profilo basso. In contrasto, ad ammirare le creazioni di Donatella Versace, c'era Fedez, che ha dichiarato, «Sono qui per lei, è una mia cara amica che mi sta aiutando in questo momento difficile». Bloccata dalle domande del giornalista, invece, Valentina Ferragni ha evitato di commentare la presunta separazione della sorella, limitandosi a dire «Non è mio compito parlare di questo. Lei parlerà quando sarà pronta. Io sono qui per lei, punto». Questa risposta, seppur enigmatica, ha scatenato un'infinità di speculazioni.